Ciao a tutti e com'è in Yokai, sono qui davanti al distributore di moni, cioè insomma di Yokai Yokai slot, vediamo un po' se vinciamo anche oggi qualche cosa, chissà, chissà Vediamo Bene, un'esfera grande Ottimo lavoro Che poi potrei darla anche a quella zia Zora, zia come si chiama, usa una moneta Vediamo Questa blu, vediamo Zia Cora E ramen deluxe, sì, ok Ci siamo esorbiti una moneta e allora adesso vediamo Usare monete di gioco, sì, vai Vai Vediamo un po', vediamo un po' che cosa vinco Terza pallina Ciao Angelino, ma ciao Angelino c'è una marea Vabbè, nessuno Yokai oggi, va bene così Quindi, va bene, sparita la slot, la slot, la caccetta, va bene, bla 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 Allora, chiamiamo l'ascensore Bene Perfetto, ecco uscita l'ascensore Prendiamo l'ascensore Perché dobbiamo andare a trovare i tre i Yokai che ci servono per salire di rango Vai Signor albero sacro, asciwenzore Ok Andiamo in giù Bene, eccoci arrivati allo Yokai World Benissimo, ci siamo Buongiorno, andiamo avanti Salve a tutti Sì, è sempre un piacere Ma qui si va all'inizio Allora, vediamo un po' Monte Bugiardo Via Van e Passo a Famaro Ma dove sono questi? Vabbè, andiamo Vediamo un po' Sala d'ingresso Prima porno Qui ci sono le sali d'ingresso però Cioè, non è che Occhio che qui ci si sta Facciamo una passeggiata per capire dove bisogna andare Salve Magari qua posso andare Vedo una porta viola Vediamo un po' se qui Eh no, a rango S Allora, siccome queste sono le bisacche Non sono qui nello Yokai World Mannaggia Dov'è questa Monte Bugiardo? Oh, però qui c'è una scatola Intanto me la prendo Non l'avevo vista prima Torniamo indietro, dai Andiamo, torniamo indietro E cerchiamo di trovare questo Monte Bugiardo Eppure vi sembra strano Perché proprio qui si sono tutte le corte Effettivamente Allora, aspetta un attimo Fammi andare Sto cercando il Monte Bugiardo Sì? Vai All'ultima volta Grazie Facciamo così Una panoramica Beh Questa è sala d'ingresso Porta grande Ok Vediamo Che ci dice Ci fa entrare Lideramente Questo è il trono Che Ci siamo riusciti Siamo riusciti E qui cosa c'è? Chi c'è laggiù? Chi sei tu? Tipo stramunche 9 Ho un giocatore nuovo Vabbè Niente E quindi Niente Qui non c'è da fare niente Sì E torniamo quindi in superficie Andiamo a cercare questo Via Bandola E Monte Bugiardo Ma dov'è il Monte Bugiardo? Continuo a dirlo Ma chissà Ok grazie Signor Traspec No No Ho sbagliato No Grazie Bene Arrivederci Bye bye Torniamo indietro Vai insomnia Portaci di nuovo su E andiamo a cercare Questo Monte Bugiardo Dove potrebbe essere? Bene L'ascensore Per lo Yo-Kai World Mi piace Mi piace Allora Mappa Bene Perché abbiamo qui Via Bandola Passo affamato Monte Bugiardo Grazie Grazie Inzionia Qui c'è l'albero sacro Ok Fammi vedere Oh no La mappa Esce un attimo È mappa Fammi un po' andare a vedere Di qua Tutto Tutto Andiamo 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 Bicilletta Di nuovo Giù Di qua Per le scale Di nuovo Bici Via Ok Aspetta Prendiamo di qua Non riesco a attivare Luce Luce Quindi Torniamo ancora in su Cappero Riusciamo ad andare Oh qui c'è una scatola Riusciamo a salire anche sui sassi Non esca Però aspetta C'era del rosa Potentoso Per qua Ecco qua Chi c'è qua Io non vedo nessuno È qua Qua Oh Fino un po' C'è una strada qua Ecco per qui Fai vedere Forse c'ero già stata Mi era un attimo sorpresa Ma mi sembra di esserci Da stata Oh C'è un nonno No Salve Signor Nonno Sembra Nonno Nonno Non è lui Eh no 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 Sì sì Tutta una serie di no Salve signor muro Ah ma sì Lavorissimo Ecco non ci fa passare Finalmente un combattimento Ma noi non abbiamo paura Tranquilli Vediamo qui la nostra Potenzia Ancora ecco Va bene Basta Energy max Aspetta nulla Ormai l'ho caricato Troppo tardi Volevo vedere Prima a livello 10 Di vita Di due No 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 Intanto E' stato Intentato Vabbè Dai No no Perfetto E abbiamo vinto Sì Allora lui ce l'ha già Quindi non ci interessa Se vuoi diventare Un nostro amico Bene Andiamo A proposito Sei troppo forte Prendi un po' Di metodo Vediamo che cosa ci regala Sciloponi Vabbè Sciloponi Non ce ne facciamo di poco Diciamocela tutta No diario Ma volevo dare Inventario Una Una sfera Non so No di qua No queste tutte Vediamo Qua era la sfera Che ho droppato Eccola qua Sembra semplice No Animali Gli oggetti Eccola qua Allora intanto Diamo Usa Su Dov'è Si ancora vai E' un pochino C'è salita Usa ne un'altra E ancora Perfetto Esci un attimo Vediamo Quasi così Do anche A questa 50 Tendiamone una Anche di questa Dai Azi ancora Ma se facciamo 20 Si fa Vai perfetto Usciamo così Vai E andiamo in su Andiamo in su Per le scale Ancora per le scale E ma come si fa Passate Vedi qui È stata interrotta Passo montano Non si passa Qui c'è la cascata Forse Aspettano Ottimo Qui c'è una scatola Forse da dentro Il passaggio La Aspetta Andiamo Corri Corri E chi c'è qui Vabbè Facciamo un combattimento Che qui Non so Chi c'è Chi c'è qui Anche questo Yokai Mi manca Tanto Questo mi riesce A atturarli A peribuccio Vai Vai Farfani 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 È di notte Buuhu Vai Buuhu Vai Vediamo un po' così Combatti Guardate Velenotto Come si sta ricaricando Velocemente Benché ha aumentato Il suo danno E chi è che ci ha fregato Un po' di vita Vai Di qua Velocizza Su Bravo Velenotto Bravo Velenotto E ti sta ricaricando Ottimo Ci è piaciuta Questa battaglia È abbastanza veloce Niente 39 di esperienza Però Diciamoci Non è stata Una gran battaglia difficile Andiamo Andiamo in su Ancora Qua Ancora Su 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 E andiamo Tunnel Ecco Questo è il tunnel Abbandonato E quindi ci si Un enter Non c'è nessun passaggio Qui c'è uno E tu ne abbandonato Non c'è altro Accidentolino Attenzione Ci sta attaccando Allora Prendiamo Qui Va bene Vai Poi Qui nel carrello Vai Salta Di qua Vai Ok Corri Corri Cosa fa questa leva? Non lo so Esplori veramente la città Attenzione Ah Ecco Non volevo combattere Perché volevo far Velocizzare un po' Ma niente Combattiamo Oh Vai Qualcuno di voi Per favore Faccia amicizia Con noi Dai Su 25 Sempre meno Vedere Nessuno Vuole fare amicizia Secondo io Ok Gli rimaniamo Antipatici Allora Di qua Io ho fatto il giro Aspetta Aspetta Ecco Mi chiamiamo il carrello Di qua Allora via Lo stiamo con dei manoni Esploriamo Questa Vai Basta Giù Via Concludiamo velocemente Queste battaglie Per favore Bene Ciao Ciao Stato bello Mi abbiamo battuto Con un niente E via Vai Proseguiamo E devi sobbloccare Ma ragazzi Che noia No Andiamo qui Come è rotto E qui si blocca Non si può andare di sotto E niente Allora passiamo di qua Andiamo di là Di qua Si può andare E qui si fa il giro Aspetta Dove si sale Ah ecco E di qua Ti affronto Vai Combattiamo Vediamo la super Dizia Cora Via Affettuosa Beh Incantato Via Fatelo fuori Brava Chiacora Bravo Giovanni E via Ciao 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 È stato bello Anche con te Combattere Ma abbiamo vinto Mi spiace Con grande facilità Anche questo Combattimento E andiamo avanti Di qua Tra lalero Tra lalà Di qua Andiamo Vi facciamo tutto il giro Iniziamo a fare un giro Supersonico Attenzione Ecco Via Ci vuole Ci vuole affrontare E l'affronteremo Bene Oh Dentro Stel Dentro Strello Mi piace Dai Dentro Stel Vieni a fare Delle Della amicizia con noi Dai Su Non è possibile Che nessuno Voglia fare amicizia con noi Siamo davvero Venti Dai Luciano Supramentato Per tutti Via Bla 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 Vai Facciamo fuori Bla 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 E non ci si pensa più Bravo Benkay Bravo Belle notte Vai Andiamo a dolor Perfetto E dentro Stello Via Ciao È stato bello Anche combattere con voi E abbiamo vinto Anche questa volta 118 Stavolta di più Attenzione Di qua Di qua Si va di giù Di qua Vai Affrontiamo anche Buhu Mai ci vuole affrontare Katanon Se tu Diventassi nostro amico Anche tu Ci paghessi un gran Piace Anche Tra l'altro Katanon ci serve Mi sembra Per una Per una secondaria Bene Spolverati Come non mai Ovvio Dai Su Katanon Vieni con noi Su Dai Vieni squadra Ci manchi No Assolutamente No Manchi No Di qua Ok Di qua da dove sono venuta E quindi Dai Prendiamo questa Di qua Fatto il giro Non ci sono altri passaggi Bloccato Qui si va di sotto Di nuovo Prendiamo questo carrello Andiamo a vedere Dove si ritenisce Oh Fermi tutti Cosa vedono i miei occhi Qui ci posso entrare Oh la la Tunnel abbandonato Esplode Aspetta Cosa c'è qua su Ho trovato il tunnel Aiuto Katanon Ma si Affrontiamo Dai magari Vieni a fare amici Con noi Ti do subito Un bello oggetto Katanon Guarda questo Bello nei giri Un suo nemico Vai Non vi è piaciuto Grazie Bene Forse Forse vuoi diventare Amico nostro Chissà Dai Oh mi hanno incantato Il velenotto Là Su Non è splendida Questa è splendidissima Io direi che è perfetta Su E adesso Verrà Katanon Nella nostra squadra Chi lo sa Secondo me no E infatti No È difficile Abbiamo liberato Questo Oh Qui ci piace Perfetto Abbiamo ripristinato Tutto Fatto Grazie Oh Esplora liberamente Prendiamo questo carrello E dove stiamo Andando Non lo so Cosa serve Questa leva Maiora Leva l'azione Non si sa mai Tipo Vieni Affrontiamoci Non ci fate paura Energy max Poi Questo Questo ci potevo rimettere Chiacchia Ma dai Sono troppo Presa Dal livello S Inizia Ora Oh Guardate qua Uno ce lo siamo Cancellato Vai Ancora Oh Grande Ben K Forza eh Ecco Vai Non volevo usare Nessuna super Né altro La tengo adesso Momentaneamente Ottimo 41 42 Eh ben K Non mi lo tolgo Mi piace troppo Allora da quale parte andiamo Allora da questa Ma sì Iniziamo da su Via Ah ho cambiato la direzione Quindi adesso siamo andati a dritto Cosa c'è Siamo di sopra Questo tu me l'ha bandolato È grossissimo Ma mappate Andiamo di sopra Oh chi sei tu Oh mamma Ah è Ghello Ghello Ah Ghello Ghello E poi vai Ben K Spolvera il tuo Vai Ben K Tra faccio Ne abbiamo fatto quasi niente Ma questo È sempre Vivo Nonostante Regga l'anima Cosenti Attenzione Versaglio Prendiamoci un po' Questa palla blu Vai Bene Bene Vai Ragazzi Affettate questo Ghello Vai Yes Grande Ben K Super Ok Tra l'altro però Ghello Mi mancherebbe In collezione Così Per dire Niente Non ha sentito Non ci ha voluto sentire E Dove stiamo andando Che c'è qua Tu chi sei Ah è sempre Pieristrello Dentro Strello Vai Combatti Vai E poi vai Così Vai vai Ma non cantato Ben K Molto Multiplo Bravi Intanto pulifico Ben K Voi continuate Allattare Mi raccomando Ultima difesa Come ultima difesa Facciamo fuori Si sta incantando Non ci incanti Dentro strello Andiamo da Bla 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 Tieni Affettiamolo Su Ehi Vabbè Facciamo combattere Anche un po' Ghibayana Dai Perfetto Krincoma Krincoma Con una fuocata L'ha fatto fuori Bravi Bravi Vedo che qui le battaglie Sono più intense Perché sto prendendo Più punti esperienza Bene bene Faccio amo Che è questa osa Sbrilluccica Di blu Olio Dolor Abbiamo anche Un olio Così questo E' olio Se lo usi Sugli ingranaggi Arruginiti Tornerà a funzionare Come prima Ingranaggi Arruginiti Ottimo Bene Quindi Qui c'è una scala Oh bene La moneta gialla Fa sempre comodo Quindi abbiamo trovato L'olio Il primo corrello Aiuto Chi è? Ghello Qui Vieni Si affronta tutti Non si scherza Bene Così ci può stare Vai Energy Max Gizzi Ora Vai Zia Vai sulla tua Nuvoletta Una zia Affettuosa Viene notte Quasi carico Con l'energia Energy Max Bene Qui c'è No no Niente Ogetto Proviamo a dare Gli usa Sul nemico Qualcuno Verrà con noi Un pasto normale Mamma mia Sono pure Se fisticati Fanno Proprio Gli schichignosi Dai Su Nun Cosa aveva detto Che non ho letto Bravi Vai Ciao Saluto tutti I miei Amici Che ho affrontato Milo male Si sono impegnati Ok Torniamo indietro Questa zona L'ho controllata Bene E cambiamo Deviazione Bene Riprendiamo il carrello Questa volta andiamo a destra Ottimo Andiamo su C'è di nuovo Gelo Petta Scatola a noi Grazie In guardia con stile Affrontiamo Gelo Allora Oggetti Che gli diamo a Gelo Proviamo a dargli una Y cola Ah no Non l'ho data a Gelo Però Perché l'ha presa lui Vabbè Energy Max Dai Vai Oh Si ancora Incantata Adesso La Puritichiamo Quando Il nostro Morto Multiplo Di Veneto Ha finito Di azionarci Ecco Super Fortuna Bene E un andato Vieni Torniamo qua Dai Su Ganno Su Proviamo a dare Nel Cingon Che ne so Magari Blablabla Ce l'ho Di già Sì Non ho parole Ecco Bene Però Gli è piaciuta Pure Dai Su Tutti da Gelo Non è grandiosa Tra l'altro Dice questo Perfetto E abbiamo vinto Ciao Ancora A voi Che avete perso Uh Livello I fatti E proseguiamo Questo punto L'abbiamo fatto Tendiamo il carrello E andiamo di sotto Che c'è qua Cosa c'è in questa scatola Medicina potente Wow Beh Torniamo indietro Torniamo di qua In giù Ah vi manca la parte Sottostante Prendiamo questo carrello Ah Prima a sinistra Non c'è niente Sì c'è una scatola Che cosa dico Non c'è niente Moneta azzurra Ottimo Torniamo di qua Su Bam Cambiamo Questo Bene E cambiamo Andiamo Questa volta Alla nostra destra Cos'è questa Questa leva di emergenza Riporterà i carri Dalla posizione iniziale Bene Quaggiù che cosa c'è Errango S Ancora qui Scusi Chi è lei Ampli camp Bene bene E così tu sei l'ultimo Vinuto fin qui Per scoprire il nostro segreto Cosa No 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 Non abbiamo intenzione di Arrenditi e sverci il segreto Che stai facendo Lo sapevo ora Preparatevi a sentire Tutta la fulia Della mia forza Ampli camp Questo segnam Evoluto Sicuramente Combattiamo subito Con una bellissimo Gibanyan Bello Super carico Vai E vai Gibanyan E basso di salute Bene Mi manca poco Perfetto E abbiamo battuto Anche questo tizio Che ci deve svelare Un segreto Vediamo un po' Che segreto ci svelerà 252 Intanto di esperienza Sfera elettrica Per noi Buu È scappato Volevo scoprire Anche noi Guarda un altro oggetto Un motore Ampli camp E che serve? Un volante Un volante Dell'olio Un motore Che strano oggetti Abbiamo raccolto Ci sono Può essere che Questi oggetti Ci stiano dicendo Di riparare Quel carrello All'entrata Il grande segreto Yokai Deve essere Al capolimato In questi binari Sei sicuro? Ma certo È così che succede Nei videogame Fidati Ok Se te lo dici tu Andiamo Allora Ritorniamo a questa ragazza Quindi non ci posso fare Ritorniamo qui al carrello E torniamo indietro Andiamo subito A vedere Di che cosa si tratta Prendiamo questo carrello qua Ripristiniamoci la salute Ok Fatto Fatto Sì E proseguiamo Quindi Di qua E poi Di qua E Eccoci Una regola qui Un'altra Sì Carello riparato Ha visto? Cosa dici? Sì Grazie mille Grazie alle mie doti di valletto Yokai È stato un gioco da ragazzi E ora di metterci all'opera Non so perché ma Ho un brutto presentimento Anche secondo me Ma andiamo Vai Finalmente siamo Ecco Aiuto È partito il filmato Ok Allora Ho provato a combattere Contro il boss Prima Sono morto Quindi adesso scambio un attimo Collezione Perché Voglio rimettere Kia Kia C'è anche il draghetto È forte Aspetta Kia Kia Dov'è? Kia Kia Ok Schiera Al posto di Sia Coraz Sì Quindi ciò Un Vediamo Aspetta Esci 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 Vabbè Ho battuto il boss Con questa squadra Una squadra per vincente Non si cambia Andiamo Fatto Andiamo Ok Quindi Ripetiamo Il carrello Allora Pase iniziale Bene Ok Eccoci a noi Dai Siamo pronti Sì Non c'è niente Ora vedete Che cosa appare Questo mostraccio Questo mostraccio Sono pronti Combattiamo seriamente Cerchiamo il punto debole Combatte Ecco subito Basta guarda Subito Gli schiero Gli schiero Benkei Gli tiro dietro Benkei Si è fatto Il niojitsu Il niojitsu Delle cicale Che c'era scritto Vediamo Vediamo Spenderti Bene Polifichiamo Anche la nostra Chia Chia Ragazzi Voglio abbattere Questo Ecco Via Via No Ho matto Benkei Ma come Cioè ho battuto Un super mostro E non batto Questo troiaietto Vifron Guardate Capite se mi tocca Io se nacco Tutti i ranghi S Ma guà Non è possibile Cioè Non è possibile Cioè Fatelo un po' fuori Dove bisogna Colpirlo Non capisco Ora Ora Perché poi si carica A po' dei macelli Allucinanti Oh grande Chiacchia Vai Velenotto Niente Ma poi gli si fa anche fuoco Bene Dunque è sempre morto Ah Ancora non l'ho purificata tutta Cicalama è quasi morto Che dolore Rossoplosione Rossoplosione Che va Ora ci tira una botta Si prema Qualcuno morirà Di snocchia Chiacchia È morta Mamma mia Che nervosa Velenotto Reggio l'anima Codenti E ora Ci ritira La focata Vai Dai Ricarica Su Ah Cavolo Non è possibile Non è possibile Ragazzi Ragazzi mi fanno fuori di nuovo Ragazzi mi fanno fuori di nuovo Rossoplosione Di nuovo E mi fa fuori Mi sa che c'è Dove di tornare al rango S E mi sa proprio Ottimo Non è nemmeno a metà di vita Questa cosa è fatta meglio prima No Ma uccideci Cicalama Guarda Tirolemi in barca Oggetti Bamboli di fuga Vediamo se la posso usare Dai Non si può usare Dai E niente Diciamo che questa battaglia Rimane qui Devo fare Un po' più Di Esperienza Ma dove cappero sarà questo Monte bugiardo Via Vandola E passo Affamato Ecco Rimango questo doppio Mentre sto per prendere La mia seconda battaglia Adesso devo Riorganizzare Le altre idee Intanto abbiamo trovato Un modo di sbloccare Il carrello Adesso questo Con una rossa Esplosione Che mi mette a capo Tutti i miei Yukai Io spero Che vi sia piaciuto il video Grazie per aver visto il video Fino a qui E A questo punto Vi rimando Alla prossima Al prossimo video Suggeritemi anche voi Dove andare Al monte bugiardo Via Vandola E passo affamato Grazie Ve ne sarei molto grata Almeno così Mi togliete questo dubbio Va bene Dite questo uno Ciao a tutti E al prossimo video